Per il mio primo incontro elettorale ho deciso di andare nel rione saporito di Castellammare di Stabia, che è questo rione che sta nelle cronache dei giornali per il suo alto tasso di criminalità, quindi mi interessava capire, quindi conoscere i luoghi fisicamente, questi luoghi. E questi luoghi sono simili, questo rione è simile a tanti altri rioni del nostro Mezzogiorno d'Italia, della nostra Napoli, ma io lo sapevo già, se vai nei mercati li frequenti chi abita e c'è tanta gente per bene, ma io su questo non avevo dubbi, che cosa ho capito? Che dobbiamo investire, assolutamente dobbiamo investire nel lavoro, nell'occupazione, nella bonifica di questi territori. Guardate, è importantissimo da questo punto di vista, perché solo così possiamo...